Dopo lunghi giorni trascorsi in rianimazione con una prognosi riservata, la diciottenne di Omegna coinvolta in un incidente con un bus di linea all'uscita del liceo Cavalieri di Pallanza è a casa. La ragazza è stata dimessa ieri, mercoledì 11 ottobre dall'ospedale di Novara dove è stata ricoverata per 16 giorni. Per cause ancora al vaglio della polstrada, il 25 settembre la liceale all'uscita dalla scuola mentre si avviava a prendere il bus per tornare a... Se vuoi vedere tutto il video abbonati alla nuova televisione online e live 24 ore su 24.